il cittadino paziente si trova all'interno di un ecosistema quello della salute in cui entra in contatto con diversi attori dalle strutture sanitarie ai medici di famiglia medici specialisti ma anche nuovi attori emergenti come le aziende assicurative e le aziende farmaceutiche in questo ecosistema il cittadino paziente ma anche tutti questi attori possono essere supportati attraverso digitale che consente di migliorare la cura e l'assistenza del paziente all'interno di questo ecosistema che abbiamo chiamato connected care quindi è importante che si sviluppino e nel futuro si diffondano ulteriormente le tecnologie digitali come le app della clinica elettronica il fascicolo sanitario elettronico in modo che si possono raccogliere una serie di dati sul paziente e utilizzando anche strumenti di intelligenza artificiale si possa ulteriormente migliorare la cura al paziente con una medicina personalizzata e di precisione